Bella raga, è domenica e come ogni domenica siamo qui oggi con un nuovo episodio di TGI perché una volta non siamo troppo in ritardo ma comunque vi chiedo di iscrivervi al canale che vorrei arrivare a 20.000 iscritti entro la fine dell'anno già lo sapete, ho detto 20 milioni di volte ma se è la prima volta che avete un mio video e volete supportarmi perché vi sto simpatico nei primi 30 secondi il tasto di descrizione qua sotto mi farebbe un sacco piacere ci sta anche il tasto di mi piace e il mio profilo Instagram se volete passare comunque tutto qua sotto ci mettete un secondo e a me farebbe un botto piacere in ogni caso le notizie questa settimana sono tante quindi non perdiamo tempo e cominciamo subito la prima notizia riguarda le Air Force One in collaborazione con Off-White nelle due nuove colori ovvero la black e quella di merda queste due colori dovrebbero uscire il 19 dicembre quindi manca ancora circa 10 giorni e dovrebbero uscire, l'unica cosa è adesso vedendo sui visti il prezzo dovrebbe essere di 180 dollari il che non è un po' alto, io non mi ricordo assolutamente quanto costavano le prime quelle bianche ma mi sembra che costassero molto meno tipo 120-130 quindi boh, la paranoia è mia, comunque le scarpe sono fighe, quelle nere quelle tipo Volt mi fanno cagare, non le metterei mai quelle nere mi piacciono perché sembrano molto semplici e poi ti avvicinano un botto di dettagli però si rovinano molto più lentamente rispetto alle bianche che sono uscite l'anno scorso che erano veramente fragilissime quindi queste qua le nere assolutamente coppe, le Volt le gregalo minchia al cane zoppo del mio vicino nuove Jordan One che sfortunatamente non ho capito se dovrebbero essere una release solamente americana o dovrebbero uscire anche in Europa quindi in ogni caso ve ne parlo, vi sto parlando di queste Jordan One, la specie di color ispirata a Spider-Man che ricordano moltissimo delle Chicago in ogni caso l'unica differenza è che la suola è fighissima, tipo quella trasparente che io adoro l'unico problema si ingiallisce tantissimo e tipo l'etichetta davanti è blu al posto di essere bianca e rossa e sulla punta della scarpa ci sono tipo dei dots, dei puntini in 3M che brillano quando tipo col flash, quelle cose là quando gli fanno le foto gli sbirri, le foto segnaletiche e niente, comunque queste scarpe sono fighe, io le prenderei assolutamente il prezzo dovrebbe essere sempre di 150€ come tutte le Jordan One però come vi ho detto non sono sicuro che esca un anno in Europa in ogni caso le troverete su StockX e 10 milioni di altri siti che tanto si rivenderanno come tutte le Jordan One di questo ultimo periodo e anche le vecchie parliamo adesso di A Cold Wall che ha rilasciato la sua nuova collezione proprio oggi la trovate online sul sito la collezione è carina, sincero, i pezzi sopra, giacchi così non è che mi faccia impazzire, a me di A Cold Wall quello che mi fa sborrare sono i pantaloni sono una roba assurda secondo me perché hanno questo stile fra il tecnico e la roba normale anche un gelettino che ho visto tipo Bordeaux è super figo comunque A Cold Wall secondo me è uno dei brand più promettenti di quest'ultimo periodo quindi se volete acquistare qualcosa fate benissimo, sarebbe veramente figa quindi il link di A Cold Wall è qua sotto e se volete passare ad acquistare qualcosa passiamo adesso alla notizia che ha dato titolo a questo video dai che per una volta non vi ho fatto aspettare fino alla fine bastardi che venite solo per quella notizia del titolo sto parlando di Gosha Rubinski che è stato denunciato su un gruppo Facebook per aver tipo molestato, per aver chiesto delle foto minorenne si sa che era già un pedofilo Gosha questo tipo qua a 16 anni allora la cosa che mi chiedo io allora Gosha ha contattato questo tipo prima su Instagram chiedendogli guarda sei molto bello, mi serve un modello, bla bla bla, mandami delle foto e poi ha cominciato a molestarlo tipo su Whatsapp, tipo FaceTime ma proprio cioè, ma di brutto che se io mandassi dei messaggi del genere a una tipa mi prenderei una denuncia tipo in 15 minuti comunque ci sono tutte le chat qua sotto se volete leggere dall'inizio fino alla fine c'è anche il video di FaceTime che mi metterei ma è tipo su Instagram ed è una altra di cazzo da scaricare però Gosha comunque si vede proprio un bastardo tipo c'era un messaggio che mi ha fatto troppo ridere cioè tipo il ragazzo gli fa sì grazie comunque per questa opportunità non avendo ancora forse capito che ero un pedofilo e tipo gli fa grazie mille signor Gosha per questa opportunità e Gosha gli fa sì va bene ma io sto ancora aspettando la tua foto quindi boh comunque Gosha è veramente un cazzo di fissato per il cazzo si sapeva già quindi non so ancora adesso cosa succederà a Gosha se avrà processi legali e altre cose che per il momento non mi pare sia successo ancora qualcosa dal punto di vista legale ma tipo tutte le pagine Instagram tutti i gruppi Facebook sono pieni di questa roba qui quindi penso che manca poco notizia di una frazione di secondo che probabilmente vi scorderete fra dieci minuti Balmain ha cambiato leggermente il loro logo adesso lo state vedendo con la B praticamente sopra carino regà il cazzo di logo Balmain l'hanno cambiato rispetto a quello vecchio non mi fa né caldo né freddo non è che fossi il più grande fan di Balmain del mondo anzi non me la son cagata mai tutta la mia vita quindi niente passiamo alla prossima che riguarda indovinate un po' l'uomo dell'anno ovvero Virgilablu che cosa ha fatto Virgilablu? questa volta è diventato direttore creativo ecologico di salcazzo delle Vianna che probabilmente manco le Vianna sa a cosa serve questa posizione però vogliono avere anche loro Virgilablu nell'amministrazione perché ormai fa figo Virgilablu fra un po' lo vedremo anche come amministratore delegato della Pampers perché ormai veramente lo stanno prendendo a fare qualunque cosa da off-white poi che cazzo ha fatto veramente di tutto Louis Vuitton adesso l'acqua cioè basta per favore Vianna comunque dovrebbe fare una capsule collection con i Vianna all'inizio del 2019 quindi mo' sono curioso di dire che cazzo fa l'acqua con le virgolette se veramente Virgilablu fa l'acqua con le virgolette ne compro sei casse parliamo adesso di una collaborazione della nuova collezione di North Face fatta con extra butter un brand che io sinceramente non conoscevo cosa ha questa collezione particolare per tutti i pezzi North Face come per esempio in Aps hanno tirasciato pure un ombrello cosa rarissima per North Face e ci sono un sacco di pezzi classici mi pare anche un marsupio così praticamente hanno stampato tutta la scala di New York figa come idea a me non piace sincero non so perché ma non mi piace ho letto commenti su Instagram Facebook un sacco di gente fa impazzire sta roba e sinceramente lo capisco perché a me per esempio la collaborazione che aveva fatto North Face con Supreme quello dove avevano stampato tutta la mappa addosso mi ha fatto impazzire però questa qui non mi dice niente forse perché è troppo scura forse perché le luci mi sembrano solo dei puntini come la giacca è già molto scura di suo non lo so questa giacca cioè tutto in realtà marsupio ombrello non mi fa impazzire fatemi sapere voi cosa ne pensate qua sotto nei commenti perché sono curioso di sapere anche voi cosa ci vedete in questa collezione che io sincero non ci vedo un cazzo in ogni caso non dovrebbe tardare a uscire perché è prevista per le vacanze natalizie quindi manca ancora neanche un mese un paio di settimane e ci siamo nuova Jordan 1 ennesima color di Jordan 1 allora c'è un problema perché secondo me sono tutte fighissime le Jordan 1 fanno impazzire ma ne state rilasciando veramente troppo almeno secondo me questa qui è una nuova color che dovrebbe essere chiamata turbo green fighissime tipo questo green un po' sbiadito il materiale della scarpa non sembra suede ma comunque tipo una specie di suede vellutato una figata per me è tipo le scarpe con questo stile un po' rovinato ingiallite bomba infatti le mie Jordan 1 Chicago ingiallite la suola non le ho pulite perché secondo me spaccano tipo tutte le parti di questo verde qua dovrebbero essere fatte in questa specie di suede mentre il resto dovrebbe essere in pelle secondo me combo fantastica non vedo l'ora che escano inizio 2019 se volete acquistare fatelo io penso che le acquisterò perché sono una bomba anche se mi devo cammare come ad acquistare scarpe che basta cioè è vero ne sto comprando troppo in suo periodo rimaniamo in tema Jordan questa volta in tema Jordan 11 parlando della colorway bread che perché non conoscesse tipo la colorway OG delle Jordan nera e rossa proprio la base cosa succede? dovrebbero essere rilasciate nel 2019 figata queste scarpe qua sono una bomba le Jordan 11 già ne ho parlato nel mio video scorso che vi siete cagati in 4 quindi datelo a vedere bomba secondo me scarpe OG fantastiche se dovete flexare come dei veri campioni queste scarpe qua spaccano quindi appena usciranno se ti piacciono Jordan soprattutto le Jordan 11 soprattutto la colorway bread prendetele passiamo adesso all'ennesima colorway delle Jordan 1 sto parlando di questa nuova variante delle shutter backboard e questa volta senza bianco ma semplicemente nere arancioni con la suola crema allora sincero secondo me sono carine però a me non piacciono le Jordan 1 troppo scure per farvi capire mi piacciono le Chicago non mi piacciono le bread quelle troppo nere anche le royal per esempio però per esempio le game royal che al posto del nero hanno il bianco sincero le scarpe troppo nere soprattutto nelle Jordan 1 me le fanno sembrare più grosse troppo spesse non lo so non mi fanno impazzire mentre col bianco secondo me aiutano tantissimo quindi questa colorway qua non lo so non mi dice molto molto più fighe secondo me le shutter backboard originarie le lasciate qualche anno fa però boh so che a un sacco di gente anche questa colorway qua sta piacendo e so che anche le colorway nere per le Jordan 1 vanno tantissime infatti ho citato prima le bread e le royal che sono alcuni dei modelli più ricercati quindi io sincero penso che passerò su queste scarpe fatemi sapere voi cosa farete Travis Scott e Jordan stanno lavorando ad una Jordan 6 ovviamente creata dall'artista americano sono curioso di vedere cosa uscirà perché il primo modello di Jordan 4 secondo me era particolarmente figo le nuove Jordan 1 che non sono ancora uscite sono carine sebbene avrei fatto lo swoosh un pelo più piccolo e non l'avrei fatto di quel colore là che secondo me è orribile comunque se non sapete di cosa sto parlando Travis Scott praticamente ha annunciato una nuova collaborazione con Jordan dove creerà delle Jordan 1 parliamo adesso delle Jordan 6 che sono curioso di vedere dovrebbero essere rilasciate per la prossima estate quindi di tempo ce ne abbondantemente l'unica cosa le Jordan 6 sono una silhouette grossa e difficile da fare cioè che se non sei bravo bravo secondo me le rovini ed viene una merda quindi sono curioso di vedere cosa farà Travis Scott perché per il momento non si sa nulla in ogni caso iscrivete al canale per rimanere aggiornati passiamo adesso a una collaborazione fra Converse ed Essential la sottomarca di Fear of God che secondo me è carina cioè niente di più niente di meno quelle nere e bianche mi piacciono di più di quelle bianche e nere ne state vedendo di particolare non hanno nulla l'unica figata è tipo la roba dei lacci sul lato dietro che quelle là sono veramente una bomba però tipo il modello non subisce variazioni particolari la color è abbastanza standard l'unica cosa figa sono i lacci la scatola cambia leggermente ma chi cazzo guarda la scatola onestamente comunque se siete interessati all'acquisto di queste scarpe dovrebbero essere rilasciate il 12 quindi fra tre giorni sul sito di Paxan quindi se volete acquistarlo fatelo pure sarà abbastanza easy ultima notizia velocissima come informazione le Jordan 1 not for resale verranno risoccate molto probabilmente il 15 dicembre quindi fra qua 5 6 giorni vi lascio qua sotto il link di Outpump già lo sapete dove magari c'è tutta la lista con i negozi dove potrete acquistarle dove sarà fatto questo restock e io penso proprio che proverò a riprenderle che secondo me queste scarpe qua sono alcune delle più fighe di questo 2018 in ogni caso il video di oggi finisce qua spero vi sia piaciuto spero che siete arrivati fino alla fine del video mi ha fatto un grande piacere siete arrivati fino qua io vi voglio bene siete dei fratellini per favore iscrivete al canale se ancora non foste iscritti passate al mio instagram se ancora mi doveste seguire che vorrei arrivare a 10.000 follower su instagram per fare tipo le puttanate dello swipe up sono uno fissato del cazzo sono circa 6.000 follower se volete passare ve lo lascio qua sotto in ogni caso niente mettete mi piace iscrivetevi instagram tutte le soranziate da youtuber le ho dette quindi io vi voglio bene vi ringrazio bello